Ciao a tutti, sono Arianna Algeri, pratico mezzo fondo, faccio i 1500, sono iscritta all'Università di Bergamo e pratico economia aziendale. Purtroppo non posso frequentare e di conseguenza il programma Dual Career fa il mio caso perché gli insegnanti mi vengono incontro e si riesce a gestire al meglio sia la parte sportiva che la parte di studio in modo tale da organizzarmi sia con le mie gare e allenamenti e di conseguenza proseguire anche lo studio. È difficile perché mi sono ritrovata appunto quest'anno, siccome è il mio primo anno di università, a saper gestire due allenamenti. Io prima facevo solo un allenamento al giorno, adesso mi sono ritrovata a farne due al giorno e tutti i giorni e quindi è difficile dal punto di vista che bisogna sapersi organizzare perché se ci si organizza si riesce a fare tutto e ovviamente si studia tra un allenamento e un altro e l'università mi supporta grazie a questo programma Dual Career che in accordo con gli insegnanti possono fornirmi materiale e pianificarmi al meglio gli esami per poterli svolgere nel migliore dei modi. Sì perché io che sono una fuorisede, vivo a Roma per l'atletica, questo metodo di venire a Bergamo solo per fare gli esami e essere supportati agli insegnanti secondo me è importante perché non tutte le università offrono questa possibilità e mi ritengo fortunate quindi devo sempre ringraziare gli insegnanti per quello che fanno e quindi consiglierei assolutamente alle persone di iscriversi all'Università Iberia